Torna a Cammin Giochiamo, la camminata solidale per le vie del centro di Pistoia promossa dall'associazione Amo Pistoia, giunta quest'anno alla terza edizione. L'appuntamento è per domenica 16 ottobre con ritrovo alle 9 in Piazza Duomo dove verranno raccolte le iscrizioni, offerta minima 5 euro e consegnate le pettorine colorate, mentre la partenza è fissata per le ore 10. Il ricavato è finalizzato all'acquisto di giochi inclusivi adatti ai bambini da installare all'interno di parchi pubblici della città. Sì, terza edizione, quindi dopo il Covid l'associazione Amo Pistoia è ripartita con l'organizzazione della terza edizione, siamo proprio qui a Montoliveto dove è partito tutto il progetto per installare giochi inclusivi nei parchi pubblici. e devo ringraziare però l'associazione ma soprattutto anche tutti gli sponsor, i cittadini che comunque credano nel bene della città e comunque con un piccolo contributo diamo un'opportunità a tanti bambini di giocare con dei giochi sicuri e inclusivi. Il tema di quest'anno è tutti i pazzi per San Jacopo, che San Jacopo lo ricordiamo è il patrono di Pistoli. Sì, nel percorso si snoda in cinque tappe, saranno seguiti dall'animazione, ad ogni tappa si fermeranno i gruppi e verranno spiegate tutte le caratteristiche del posto dove ci fermiamo, tutto legato appunto a San Jacopo. L'arrivo in Piazza Duomo è previsto per le 11.45 circa e dove già dalle 9, in attesa della partenza, sarà possibile visitare l'esposizione di auto d'epoca e di modelli storici di Lambretta, Vespa e Harley-Davidson.